Nutrizione, microbiota e tumori, un tema di attualità che ha visto discutere biologi, medici e studenti all'Università di Cosenza. Nell'Aula Caldora erano oltre 250 i partecipanti al convegno organizzato dall'Ordine Nazionale dei Biologi e dall'Associazione Scientifica Biologi Calabresi, con il patrocinio dell'Ateneo ospitante delle Università di Catanzaro e Roma Tor Vergata, del Policlinico Gemelli di Roma e dell'Asl di Cosenza. Dopo il convegno che abbiamo fatto all'Università di Catanzaro il mese scorso sulla oncologia, quindi la nutrizione nel malato oncologico, oggi parleremo di microbiota. In entrambi i convegni abbiamo voluto la presenza anche dei relatori che sono di altre professioni, medici e specialisti medici e psicologi, perché riteniamo che la nutrizione, quindi la scienza della nutrizione, quindi è una scienza che prevede la presenza di molti professionisti, quindi una scienza multidisciplinare, anche perché la nutrizione quindi si coniuga benissimo con il binomio ambiente e salute. Questo convegno sul microbiota è stato fatto qui presso l'Università della Calabria per rispondere comunque a un'esigenza scientifica della comunità di biologi presenti sul territorio. È stata dura onestamente organizzare questo convegno, ma siamo riusciti a portare i massimi esperti del microbiota a livello nazionale, professori provenienti da Cagliari, da Roma, dall'Università di Tor Vergata, dalla nostra Unical, che ci hanno permesso di comprendere quelli che sono gli aspetti importanti e le ultime ricerche scientifiche sul microbiota, ovvero questo nuovo organo ormai definito tale, che permette la regolazione di diversi tipi di sistemi, da quello nervoso, a quello gastroenterico. Tutti questi biologi che sono venuti qui oggi ci hanno dato dimostrazione di partecipazione sia alla nostra associazione e sia a questo evento di portata nazionale, soprattutto unico in particolar modo per quello che è il Sud Italia. Moderatore della giornata Gianni Zocchi, delegato nazionale per la nutrizione dell'ONB. Il microbiota incide sicuramente in molte patologie, o perlomeno in questo momento è allo studio, e tramite alimentazione, tramite tutta la parte che può riguardare la nutraceutica e quindi tutta la parte che riguarda anche gli aspetti dei principi che possono essere oggi rivisti sotto alcuni punti di vista, perché l'alimentazione non è solamente un fatto che riguarda la componente strutturale dell'individuo, ma oggi dobbiamo avere una particolare attenzione anche agli aspetti che riguardano il microbiota intestinale, perché è un'interfaccia tra il mondo esterno e il mondo che ci appartiene. In definitiva l'alimento entra nel nostro organismo e viene processato da tutta una serie di ambienti e quindi anche di cofattori che entrano, cofattori enzimatici e quant'altro, fino ad arrivare all'intestino dove nell'intestino troviamo una flora batterica intestinale che nel tempo si è andata a modificare e ha modificato la biodiversità. Tra i relatori Renato Fani, presidente del corso di laurea in scienze biologiche all'Università di Firenze, Mario Mauro Amato, biologo analista, Giuseppe Talani, ricercatore dell'Istituto di Neuroscienze del CNR di Cagliari e Ludovico Abenavoli, professore di gastroenterologia dell'Università di Catanzaro. Flying to Mars è stata una relazione che ha riguardato l'analisi del microbiota salivare di sei individui che sono stati rinchiusi per più di 500 giorni in dei moduli abitativi a Mosca per mimare il viaggio su Marte. Sono stati raccolti campioni sia di feci che di saliva, sia di campioni ambientali per verificare che cosa succede nel momento in cui queste persone rimangono isolate all'interno di moduli abitativi in un periodo di tempo molto lungo. Quello che abbiamo ottenuto sono dei dati intriganti perché ovviamente dimostrano che ci sono delle variazioni interindividuali del microbiota ma che una volta che sono usciti dai moduli il microbiota salivare tende a mantenersi costante per un periodo di tempo abbastanza lungo prima di ricominciare a modificarsi a seconda delle abitudini alimentari che hanno i singoli individui. Ho accettato con molto piacere di parlare di quello che è l'apporto del laboratorio nella gestione non solo del microbiota ma anche di quelle che sono le patologie legate ad una disbiosi. Per cui io guarderò un attimino dal punto di vista del laboratorio quelle che sono le indagini che concorrono che possono essere di aiuto al clinico per advenire ad una diagnosi. La mia presentazione è stata volta alla comprensione di quale può essere il coinvolgimento del microbiota sulle funzioni cerebrali. Fondamentalmente noi abbiamo trattato gli animali da esperimento in questo caso ratti con una mix di bifidobatteri e abbiamo visto che il supplemento di bifidobatteri in grado in animali di controllo quindi mai manipolati, mai sottoposti ad alcun trattamento l'aumento dei bifidobatteri può modulare positivamente i processi cognitivi nel cervello e poi le modificazioni a livello neuronale. Avere un microbiota che funziona significa avere un metabolismo sano, un metabolismo in forma, un sistema immunitario attivo, essere protetti nei confronti di numerosi fattori che possono indurre anche patologie non solo metaboliche ma anche tumorali. Oggi ragioniamo di questo l'importanza dell'alimentazione e lo stile di vita nel mantenere un microbiota sano, efficiente e attivo.